Avete visto Castellitto, De Sica, vedrete Porro, Morgan, e poi ognuno dice e chiama Tomba, e chiama Bocelli, e chiama Mutti, Rovassi, Rovassi, dove cazzo sei? Chi deve votare, porca puttana? E mi schiava, e mi chiamo, Tomba, e diciamo la verità ragazzi, però io sono sgarbi, io sono sgarbi, io sono sgarbi, e allora è inutile che voi sentiate tutti questi testimoni, saranno anche bravi, interessanti, intelligenti, simpatici, affettuosi, gentili, ringrazio tutti, da quelli che devono farlo, da quelli che l'hanno fatto, da Morgan, anche a Corona, Corona quale? Corona, Corona. Corona è ovviamente Castellitto, però io sono sgarbi e vi dico, a Bologna io sono candidato contro Pierfredinando Casini, vorrei sapere da voi, oltre al fatto che Casini attende i voti del Partito Democratico, per quanti ne abbia, che cosa ha fatto, che pensiero ha espresso, che cosa rappresenta Casini? Il mio pensiero lo conoscete tutti e quindi io non voglio che tanti, tutti dicano se fossi a Bologna voterei sgarbi, voglio che voi che ci siete votiate me, per non fare le capre, non fate le capre. Votando Casini fate una cosa totalmente insensata. Fate un favore uno che non ha mai fatto niente di utile e lo votate contro voi stessi. Io sono pronto a rappresentare chiunque mi voti, di qualunque parte sia. Ve lo dico io, non fate le capre, non fate le capre, non fate le capre. Grazie. 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 Grazie.